Dall'8 marzo scorso sono 2.545 le persone che hanno compilato il modulo online di autosegnalazione per dichiarare di essere rientrate in Puglia dalla Lombardia e dalle 11 province segnate come zona rossa nell'ultimo DPCM del governo. Questa ordinanza impone a tutti coloro che sono tornati in Puglia dal 7 marzo in poi, dalla Lombardia, dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia per soggionare a casa o nel vostro domicilio qui in Puglia hanno l'obbligo di restare a casa. restare a casa nel proprio domicilio in isolamento per 14 giorni. Dobbiamo evitare che questo desiderio umano di tornare a casa in un momento del genere, di tornare nella propria terra in un momento del genere, faccia danno alla Puglia e alla nostra terra. Cosa bisogna fare nel caso si sia deciso di rientrare comunque in Puglia nonostante l'ordinanza emanata dal governatore Emiliano? Se hai comunque preso la decisione di venire in Puglia e sei arrivato in Puglia devi chiamare subito il tuo medico curante e devi andare su internet per compilare il modulo che trovi sul sito della regione Puglia per dichiarare di essere rientrato in Puglia. Non spostarti da casa, non uscire da casa, non viaggiare per 14 giorni. Devi rimanere disponibile presso il domicilio perché chiunque potrebbe chiamarti per chiederti qualunque informazione sulla tua situazione. Si raccomanda di contattare il medico o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente nel caso in cui si manifestino i primi sintomi. Se compaiono i sintomi ovviamente dovete immediatamente avvisare il vostro medico di famiglia se non lo avete chiamate un medico di famiglia che trovate nel luogo dove vi trovate appunto e il medico di famiglia vi indirizzerà anche presso l'operatore di sanità, gli uffici di prevenzione in modo tale da stabilire cosa fare dal punto di vista sanitario nei vostri confronti. La mancata osservanza degli obblighi dell'ordinanza comporterà conseguenze sia sanzionatorie che penali. Ricordati anche che se non rispetti questa ordinanza stai commettendo un reato e soprattutto sei passibile poi di un processo penale.